Stavo torneo internazionale Accademia Rimini Calcio, città di Rimini. Vi parliamo ora dal campo della Polisportiva Stella, dove stiamo per seguire al campo 3 del torneo Bologna-Lucento. Sempre per il trofeo, il calcio che diverte Pulcini, secondo anno 2008. Vediamo i giocatori che vanno a salutare le panchine avversari, ovvero i tecnici. Gran tifo anche sugli spalti, possiamo anche andare a vedere anche con il nostro Gianmarco Zannoni il tifo da parte del Lucento. E adesso vediamo proprio tornando in campo invece i ragazzi del Lucento in maglia verde e pantaloncini neri che si stanno caricando. Allora andiamo a vedere le formazioni in campo per il Bologna con il numero 1 Andrea Mostafa El Elay. Con il numero 12 Vittorio Cecere, con il numero 42 Leonardo Barbieri, con il numero 40 Filippo Ravaioli, con il numero 24 Filippo Scaglierini, con il numero 23 Gregorio Salvini, con il 38 Evan Diolaiti, con il numero 14 Alessandro Vezzoli, con il numero 8 Gabriele Dragona, con il numero 20 Giovanni Pecci, con il numero 29 Massimiliano Petrolillo, con il numero 37 Antonio Buono, con il numero 28 Alessandro Mascia, con il numero 18 Federico Lozzi. L'allenatore è Filippo Cavazza, l'allenatore in seconda è Filippo Pancaldi, il dirigente accompagnatore Antonino D'Aidone, si gioca! In maglia tradizionale, rosso-blu il Bologna, pantaloncini bianchi per i giovani felsinei. Andiamo a vedere anche la formazione del Lucento, che schiera con il numero 1 Sergio Sinchetto, con il numero 2 Antonio Macri, con il numero 3 Lorenzo Francesco Bruni, con il 4 Mirko Berardelli. Attenzione intanto, iniziativa proprio del Lucento fermata, con il numero 6 Mohamed Aziz Feriani, con il numero 17 Gabriele Soleti, con il numero 8 Fabio Tuccio, con il 9 Simone Attademo, con il numero 10 Federico Sogos, con il numero 11 Mattia Volpato, con il 12 Gabriele Amen, con il numero 13 Federico Alessio Alip, con il numero 14 Riccardo Sgroi. L'allenatore è Fabio Ghirelli, i dirigenti accompagnatori Antonio Soleti e Maria Colosimo. Vediamo il Bologna, l'appoggio per Mascia, pallone recuperato da Simone Attademo. In avanti alla sfera, lascia sfilare il proprio portiere, Filippo Ravaioli, con le mani, Elelai, rimette in moto i suoi, il break tentato da Mohamed Aziz Feriani. Si riparte ancora da Andrea Mostafa e Elelai. Parte il Bologna, sul settore di sinistra. Calcio in avanti, ha sfiorato il pallone Antonio Macri. Il lancio era stato effettuato da Filippo Ravaioli. Si gioca da poco più di due minuti, 0-0 il appunteggio tra Lucento e Bologna. Colori rosso-blu anche per il Lucento, ma in campo ce l'ha il Bologna, allora gioca in verde con i pantaloncini neri. Formazione del Lucento, sentite però come si fanno sentire i tifosi, genitori, parenti dei giocatori in campo. Quando il portiere, Gabriele Amen, si incarica della rimessa, si riparte il break tentato da Alessandro Mascia. Il controllo di Simone Attademo. Si riparte dalle retrovie con Feriani. Palla che finisce nel fallo laterale dopo il tocco. in fallo laterale del giocatore del Bologna. La rimessa con Attademo. Poi spazzata l'area dei bolognesi. Pallone tenuto bene in campo. Lo può giocare. Alessandro Mascia. Pallone poi dalle parti di Elelai. Si parte con Ravaioli. Va Ravaioli. Troppo profondo il pallone per Antonio Buono che non ci può arrivare. Dall'altra parte recupera la sfera Gabriele Amen. Lo scambio con Feriani. Il lancio in avanti, l'anticipo netto da parte di Ravaioli. Pallone che finisce in fallo laterale. Rimessa per il Lucento. Guadagna qualche metro e Lucento. Ancora la rimessa da parte della formazione in Maglia Verde. Palla per Simone Attademo. Recupera il pallone. Andrea Mostafa Elelai. Ancora anticipo da parte di Federico Alessio Halip. Cocco attenzione. La battuta. A parte del numero 11 Mattia Volpato. La risposta di Elelai. Antonio Macri. Palla per Lorenzo Francesco Bruni. E la porta via Alessandro Mascia. Ancora Mascia. Sua frenata. Ancora Mascia. Prova a sgusciar via. Elude l'intervento in scivolata di Bruni. Ancora Mascia. Poi arriva in aiuto Dragona. Riparte però il Lucento. Volpato in avanti per Attademo e poi anche il rimpallo con Federico Alessio Halip vicino alla marcatura. Sarà rimessa per il Lucento. Pronto con le mani Lorenzo Francesco Bruni. Ultimo tocco di un giocatore del Lucento. Allora la rimessa questa volta è per il Bologna. Arriva ad incaricarsene Ravaioli. Tocco all'indietro Ravaioli di testa si rifugia in fallo laterale per evitare guai. Siamo al sesto 0-0 con le mani Lorenzo Francesco Bruni. Ancora rimessa per il Lucento. pallone che è uscito dal campo il controllo poi il tunnel e danno un avversario da parte di Attademo. Pallone irraggiungibile si spegne in fallo laterale. Lotte non ha potuto tenerlo in campo. Va la battuta Mohamed Aziz Feriani. il tocco vediamo ancora il tocco in avanti da parte di Buono poi un rimpallo il pallone finisce oltre di fondo applausi da parte dei supporters sulla tribuna piuttosto rumorosa. settimo e dodici secondi del primo dei tre tempi da dieci minuti l'uno ricordiamo 0-0 il punteggio tra Lucento e Bologna gara l'insegna dell'equilibrio palla che viene data a Mascia la rimessa sarà per il Lucento proprio davanti alla nostra postazione controllo di coscia poi la tunnel ancora da parte di Attademo però perde poi recupera il pallone il Lucento va Mohamed Aziz Feriani fa ripartire Antonio Macri attenzione all'anticipo da parte di Mascia aspettato un po' il pallone Bruni ancora Feriani ancora il Lucento tocco corto di Mattia Volpato ancora da Feriani dalle parti di Feriani il pallone smistato questa volta a sinistra prova l'iniziativa Alip e poi l'uscita di Andrea Mostafa Ele Lai che rimette in moto i suoi Filippo Ravaioli lungo linea per Mascia recupera il pallone Mattia Volpato si va direttamente dalle parti delle portiere Gabriele Amen riparte il Lucento ancora l'anticipo da parte di un ottimo Ravaioli giocano sempre in anticipo i difensori del Bologna rimessa ancora per il Lucento all'in avanti lascia rimbalzare il pallone poi l'appoggia all'indietro Gregorio Salvini Ele Lai ha già smistato per il solito Ravaioli recupera palla Feriani poi il rilancio ancora di Mascia pallone che si perde in fallo laterale va Mohamed Aziz Feriani a rimettere in gioco il pallone una manciata di seconda e la conclusione del primo parziale pallone troppo lungo direttamente tra le braccia di Ele Lai fa ripartire i suoi dribbling su Attademo poi il tocco ancora per il portiere attaccato c'è una un chiarimento tra la panchina del Lucento e il direttore di gara che ha fiscato il fallo perché non si può attaccare sul retropassaggio pallone ancora gestito dal Bologna guadagna una rimessa ma non c'è tempo per batterla Gabriel Dragone aveva guadagnato la rimessa ma può bastare così dopo poco più di 30 secondi di recupero si chiude il primo tempo e si chiude sul punteggio di 0 a 0 tra Lucento e Bologna grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Scandito il countdown per l'inizio del secondo tempo. Si gioca su tre campi in contemporanea con fischio di inizio e fischio di chiusura insieme. Si può partire. Possesso per il Lucento con Riccardo Sgroi che ha calciato in avanti. Riparte la Bologna. Ora tra i pali c'è Vittorio Cecere per la formazione emiliana. Va a recuperare un buon pallone. Gabriele Soletti. Gabriele Amen rimette in moto i suoi. Anzi scusate si tratta ovviamente di Vittorio Cecere. Secondo portiere del Bologna secondo quanto visto in campo dopo il primo tempo dove c'è stato Elelai tra i pali. Giustamente nelle giovanili c'è rotazione per cui si fa fatica ed è anche antipatico parlare di titolari e di riserve. dove giocano entrambi i portieri. Riparte il Bologna dalle retrovie. Sempre un passo in campo. Ogni tanto lo vedrete nell'inquadratura. Il tecnico del Lucento, Fabio Ghirelli. Sempre a ridosso della linea gialla. L'arbitro ha fermato il gioco. Un minuto e 34 secondi. Sempre 0-0 il punteggio. Rimessa laterale per il Bologna. Il cross è un po' arretrato. Ci arriva abbastanza comodamente comunque. Con Filippo Scaierini il Bologna. E guadagna un angolo. Tiro dalla bandierina. Pallone basso. Da parte di Petro Lillo. E rimessa per il Bologna. Sfiorato di testa. Feriani. Calcio di punizione per il Lucento. Sul punto di battuta, Mohamed Aziz Feriani. Proverà a calciare lungo. Siamo al terzo. Scivola al momento della battuta. Pallone che viene recuperato da Giovanni Pecci. Alla fine c'è il gol di Federico Sogos. Dopo il tentativo di Soleti, Sogos porta in vantaggio il Lucento. Al terzo minuto del secondo tempo. Quindi gol di Sogos. E Lucento in vantaggio sul Bologna. Si fanno sentire subito i supporters. Evan Diolaiti. Palla in fallo laterale rimessa per il Bologna. Ovviamente c'è saltazione per il gol da parte del Lucento. Buon protagonista di questa sfida. Una sfida fino a questo momento nel senso dell'equilibrio. Ora provato a mettere la freccia del sorpasso. la formazione oggi in Maga Verde. Ancora va a recuperare il pallone. L'autore del gol Sogos. Ancora Sogos. Prova il numero. Ancora Sogos. Poi in avanti la sfera. Passaggio di ritorno per Sogos. Da parte di Riccardo Sgroi. Gioca bene Lucento. Anche se questa volta la sfera è finita oltre la linea di fondo campo. Riparte il Bologna. Palla per Diolaiti. Poi ancora Sogos. Riparte il Bologna. Tercetta Feriani. Alleggerimento di indietro per il portiere. Ancora la pressione di Sogos. Riparte il Bologna. Feriani. Ballone che è ancora in campo. Pressione alta da parte del Lucento. Feriani. Poi Sogos mette giù. C'è fallo. Subito da Evan Diolaiti. E recupero di Mirko Berardelli. Per il Lucento. Palla in fallo laterale. Feriani. Feriani. Quindi Capitan Fabio Tuccio. Ancora Tuccio. Talone che si perde oltre la linea di fondo. Incita ancora i suoi. Fabio Ghirelli. l'anticipo di Feriani. Colpo di tacco e pallone in fallo laterale. Rimessa per il Lucento. Siamo alla sesto minuto del secondo tempino. 1-0 per il Lucento. Gol di Sogos. Al terzo di questa seconda frazione. Prova a imbastire una trama e la Bologna. Ancora pallone riparte da Cecere. Poi il movimento di Diolaiti. Pallone troppo lungo. Va a recuperare la sfera senza problemi. Sergio Sinchetto. Che poi rimette in gioco Mohamed Aziz e Feriani. Ancora per Sinchetto. Controllo tentato da Sogos. Ancora Sogos. Prova il sombrero. Alza un po' troppo il pallone. Poi ci mette la punta delle piede. Diolaiti per il Bologna. Passaggio in avanti. Non preciso però in questo caso. Provato il filtrante Massimiliano Petrolillo. Anzi, scusate, Filippo Scaglierini. Pallone che finisce nel fallo laterale. Rimessa affidata al capitano del Lucento. Fabio Tuccio. Nato a Torino il 17 febbraio del 2008. La conclusione. Tentata da Gabriel Soleti. Chiusi nel fallo laterale. Intanto Giovanni Pecci. Nato il 7 aprile del 2008. Rimessa per il Bologna. Prova a rendersi pericoloso. E guadagna un angolo. Ultimo tocco di Mirko Berardelli. Ottavo minuto del secondo tempo. 1-0 per il Lucento. Ma Bologna che adesso può soffrire di questo tiro dalla bandierina. in mezzo Sergio in mezzo alla forza. Pallone messo ben in area. Ci mette le mani Sergio Sinchetto. E poi pallone che finisce a lato sul tentativo di Evan Diolaiti. Riparte il Lucento. Il break da parte di Leonardo Barbieri. Trovato poi il passaggio filtrante. Giocatore del Bologna. che deve ripartire da dietro. Sarà angolo. Ascia. Sfilare si accontenta in questo caso del tiro dalla bandierina. Massimiliano Petrolillo. Mette in mezzo. Pallone toccato. E' messo nuovamente in corner. Ma dall'altra parte. Da parte di Federico Sogos. Che da una mano indietro per preservare il suo gol. Siamo entrati nell'ultimo minuto del secondo tempo. Cross in mezzo. Il pallone recuperato in due tempi. Senza problemi da Sergio Sinchetto. Va al rilancio Sinchetto. Con lunghissimo il pallone. Recuperato dal Bologna. C'è un calcio involontario. Stava caricando il tiro. Ha rifilato un calcio all'avversario Petrolillo. Chiaramente non si era accorto l'avversario che si era frapposto tra lui e il pallone. 9 minuti e 38 secondi. Deve deviare in angolo. Un qualche affanno. Vittorio Cecere. Questo pallone che è diventato velenoso. Dopo che ha toccato terra. Non me ne ricordo più tra 30 secondi. Attenzione al corner. Pallone troppo lungo. Rimessa per il Bologna. Il break ancora da parte di Soletti. Ma non c'è tempo. Finisce il secondo parziale. Sempre punteggio di 1-0 per il Lucento. In virtù del gol di Sogos. Al terzo del secondo tempo. Tra poco il terzo e ultimo. Tappunto del parole. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una spinta indica il direttore di gara. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pallone che viene controllato poi per il Bologna da Dragona. Grazie a tutti. 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 l'ultima indicazione da parte del tecnico Fabio Ghirelli per i suoi e l'elai poi Barbieri il tocco di Diolaiti ancora per Leonardo Barbieri nato il 10 luglio del 2008 un buon pallone c'è l'uscita e il fallo anche su Sinchetto da parte di Giovanni Pecci che si era allungato un po' troppo il pallone arbitro fa riprendere che il pallone era in movimento calcio di punizione per il Lucento ripartono i giovani piemontesi si lotta su ogni pallone partita molto equilibrata Federico Sogos è riuscito a far filtrare in avanti poi il dosaggio del passaggio di Barbieri non è particolarmente preciso ecco il direttore di gara che va ancora a richiamare Fabio Ghirelli che in effetti sta protestando da diversi minuti sempre in maniera tranquilla però anche qualche minuto fa ha detto all'arbitro se non ti stiamo simpatici se non le stiamo simpatici ce lo dica insomma in sostanza non ci sono state diciamo azioni importanti contestate ora c'è un calcio di punizione per il Lucento pallone a terra punizione per il Lucento sul punto di battuta c'è Sogos chiede la distanza il numero 10 del Lucento 8 minuti e 12 secondi del terzo tempino la rincorsa di Federico Sogos autore del momentane 1 a 0 poi è rimediato Dragona su punizione al quinto di questo ultimo tempino e ora attenzione alla punizione barriera 2 per il Bologna la rincorsa di Sogos pallone un po' corto recuperato senza troppi patemi dalla retroguardia in maglia rosso-blu riparte la squadra piemontese e c'è questo tiro chiede aiuto alla traversa il portiere Ele Lai e poi anche il tentativo di Tappin da parte di Attademo non va a buon fine è bella parata del portiere gran bella conclusione anche da parte del Lucento alla fine però non è arrivato il gol e allora attenzione al Bologna dall'altra parte del campo c'è questo tiro traversa anche per il Bologna su questo tiro cross partita che si sta infiammando proprio nei secondi finali 9 minuti 18 secondi è il terzo tempino ha subito pareggiato il conto dei legni il Bologna sempre 1-1 quindi parità anche nei gol pallone che viene recuperato da Barbieri si gioca pallone in campo Sogos ha cercato e ha trovato Attademo ancora Attademo servito da Tuccio palo in palo laterale 9 minuti e 57 secondi siamo proprio agli sgoccioli della sfida il palleggio e poi il pallone calciato in avanti d'esterno da Sgroi arriva il triplice fischio e allora finisce 1-1 la sfida tra Lucento e Bologna in virtù dei gol di Sogos al terzo del secondo tempo per il Lucento e di Dragona al quinto del terzo per la formazione Felsinia 1-1 il finale Grazie Grazie